Cosa stiamo guardando? Stiamo aspettando che il geyser geiseggia geysera Allora, lì dentro dove l'acqua c'è? Sta cominciando a bollire il che ci sta dicendo che praticamente è pronta Allora, possiamo volare Guarda, guarda come comincia a bollire l'acqua Ok, vediamo Stando a bollire Hanno Stando a bollire Sì Non sono Stando a bollire Viene E no . Stando a bollire Grazie a tutti